Quali sarà il primo o i primi atti che porterà in giunta venerdì prossimo e 15 anni fa Primicerio per tenere unita la giunta la portava a pranzo insieme, facevano pranzi durante la giunta, le panzanelle nella sua casa di campagna. Quale sarà la tua ricetta per tenere unita la giunta? Ora, la panzanella, sono curioso di andare a assaggiare la panzanella di Mario Primicerio, è una bella idea. No, io ho detto già da alcuni assessori che, a proposito di semplicità, vorrei prima di cominciare la giunta le notizie, di andare insieme a San Mignato e fare semplicemente una cosa, o andare a Firenze. Quando vuoi? Venuto, mi ha detto, ora non venite tutti a San Mignato, se non ci dici a che ora, non vi dico l'ora della giunta, quindi quantomeno vi costringerò a stare lì, tutti quanti ad aspettare, andare a San Mignato e guardare Firenze. A me basta questo, non devo fare altre discorsioni, voglio che guardino tutti, insieme, tutti e unici, noi, i consiglieri che risparmiano. Guardiamo Firenze, e voglio che abbiano come prima cosa, nella loro, fammi finire il discorso, perché voglio dire, l'ho vissuto, voglio che abbiano, desidero che abbiano i miei assessori nel loro sguardo, come prima cosa, l'immagine di Firenze da San Mignato. Poi, basta questo, non c'è altro da dire. Ogni parola è su me, è romantico, è romantico, è romantico, ci ha suonato il violino a San Mignato. Padre Bernardo non l'ho ancora informato, ma lui, chi vuol pregare va pure a pregare magari, ma noi siamo fuori, diciamo. Siamo una giunta plurale, plurale, pluralista. Questo è il primo gesto simbolico, l'ha giunta e sarà subito alle prese con le organizzazioni. Ho l'attenzione di procedere rapidamente alla nomina del direttore generale, che posso già preannunciare, salvo ovviamente gli atti formali, tutti i controlli, l'ingegnero Giacomo Parenti, a cui voglio fare un grande buccalubo, persona che si è contraddistinta e che ovviamente da siti manager seguirà, ormai non c'è più scampo, Giacomo, non voglio tornare indietro, Alea Iacta Est, si direbbe, ma insomma è una cosa. E quindi Giacomo che, come dire, ha le chiavi delle grandi opere di Firenze, da siti manager seguirà il proseguo di queste grandi opere perché abbiamo tante cose difficili e complesse da portare in fondo, quindi il primo atto sarà quello. Il secondo atto sarà quello di condividere le regole d'ingaggio con gli assessori, cioè semplicità, chiarezza, lealtà, condivisione di valori e di metodo. E poi dopo predisporremo tutti gli atti necessari e conseguenti, siamo già a lavoro con uffici sul regolamento per la valorizzazione del patrimonio culturale, come abbiamo detto in campagna elettorale, sto organizzando i sopralluoghi, gli incontri nei cinque punti simbolicamente più lontani dal centro per cominciare subito a dare un segno di presenza, di concretenza a partire dalle nostre periferie e dei nostri quartieri.